stiamo uscendo dalla nebbia è lunedì mattina sono le ore 8 e 40 fuori c'è la nebbia sembra di stare a milano voglio fare un esperimento scientifico voglio volare col drone oltre la nebbia speriamo bene c'è un sacco un sacco di nebbia stiamo qua in location e proviamo a montare il drone speriamo bene lo sapevo ciao 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 Grazie a tutti.